Non ci è dato sapere il perché lo spirito si è mescolato alla materia, probabilmente per fare esperienza della vita individuale, della vita dei singoli esseri viventi, quindi fare tutte le esperienze possibili. Ma di certo, secondo me, ogni... di certo la materia è chiamata a purificarsi e ad evolvere, per tornare spirito. Questo riguarda soprattutto gli esseri intelligenti, perché solo gli esseri intelligenti lo possono fare, come l'uomo. L'uomo è chiamato a purificarsi e ad evolvere, proprio per tornare spirito. E' per questo che l'uomo anela alla vita eterna, all'eternità, consapevole che può arrivarci benissimo, e altresì consapevole che questo, in fondo, è lo scopo primo della sua vita. Purtroppo l'uomo, per ignoranza e dimenticanza circa la sua natura divina, si dà alle vanità, amplificando il male, nutrendolo, attirandolo, con pensieri e azioni indegni, negativi, sporchi. Con questo si perde nella materia, si aggrappa ad essa, si illude. Per meglio dire, si aggrappa al materialismo, condannandosi alla sofferenza, alla insoddisfazione perdurante, che lo farà tornare in questa dimensione fino a quando non reimparirà chi è veramente, ossia spirito puro, energia che vibra potente, con un corpo metafisico, etereo, sublime, invisibile, che ci rende pienamente parte della natura e della sostanza di Dio. Ignorare le leggi che regolano il mondo fisico, dunque, e dunque ignorare le leggi che regolano il funzionamento dei fenomeni di questo mondo, significa soffrire. Ignorare significa non conoscere, ma spesse volte accade, di ignorare, non perché non si è potuto conoscere, ma perché non si è voluto conoscere. Chi conosce le leggi che regolano la realtà spirito-fisica in cui viviamo, perché noi siamo misto di spirito e materia, spirito e fisico, spirito e corpo. Chi conosce le leggi che regolano questa realtà può agire in armonia con esse, potendo così, ponendo così fine alla propria sofferenza, la quale non è altro che un rimare contro tali leggi. Queste leggi rientrano nella natura di Dio e nel suo disegno intelligente, che è questo mondo e ogni altro mondo. Occorre cominciare col capire le piccole cose per poter capire le grandi cose, capire se stessi innanzitutto per capire il mondo, capire se stessi e indagare le cause della propria sofferenza e superarle. Bisogna cessare di cristallizzarsi, bisogna cessare di desiderare le cose inutili ed inservibili alla propria evoluzione spirituale. Molta della sofferenza fisica e tutta la sofferenza psichica e spirituale derivano dalla non cura della propria spiritualità. È una parte di noi che diamo per scontata inconsapevoli che anche lo spirito può ammalarsi e causarci grandi sofferenze. L'Occidente ha grandemente tralasciato la sua spiritualità anche a causa della chiesa-istituzione, che da sempre insegna che le cose spirituali sono cose dei chierici, mentre quelle secolari e rituali sono dei laici. La spiritualità invece è di tutti. Tutti devono essere guidati a trovare la luce guida dentro se stessi, affinché accada la saggezza, dunque la conoscenza in ognuno. Tutte o quasi le religioni concordano sul fatto che non bisogna fare di ripensare il male, perché altrimenti poi Dio punisce chi è stato malvagio. Alcune religioni dicono che non è Dio che poi punisce il male, il male che abbiamo commesso, ma è la legge del karma, la legge di natura, di azione e reazione, cioè tutto ciò che si fa ritorna indietro. Potrebbe tornare indietro però non necessariamente nella vita presente, ma anche in una vita futura, in una vita, in una futura reincarnazione. Io non credo assolutamente al fatto che Dio punisca le cattive azioni. Credo che le cattive azioni si autopuniscano da sole. L'uomo che fa il male si è già punito. Perché? Perché esiste la legge del karma che restituisce a tutti il male, il male fatto, il male commesso. Il fatto però che il male commesso possa essere pagato in una futura vita non lo ritengo giusto. Ma, si sa, in natura ci sono leggi che l'uomo non riesce proprio ad accettare. Tipo la cruenta legge del più forte. Dio però è al di là di tali leggi, che forse sono state fissate dagli alieni i nostri creatori, con tutti i limiti e le disfunzioni che hanno. Disfunzioni? Disfunzione, per esempio, è la sofferenza che causa la legge del più forte e la catena alimentare ad essa connessa. Il leone che sbrana la gazzella. Per noi non è giusto. La gazzella è tanto bella, è tanto tenera, è tanto, diciamo, è peccata, non andrebbe sbranata. Invece la natura dice che è giusto. Ma noi questa cosa non la riusciamo ad accettare. E come non riusciamo ad accettare che la legge del karma possa punire le cattive azioni compiute in una vita, le possa punire in un'altra vita. Dio è al di sopra delle leggi della natura. L'uomo invece è al di sotto di queste, insieme agli altri esseri viventi. Di certo però rispetto a questi ultimi può rendersi consapevole della cruenza di tali leggi e con l'intelligenza cercare di ridurre le sofferenze che causano. Se non è stato Dio onipotente a fissare le leggi della natura terrestre, potrebbero essere stati gli alieni i nostri creaturi. Oppure, Dio bene e Dio male, nel loro eterno scontro e incontro, dividersi e fondersi, da cui scaturisce la vita materiale che noi viviamo su questa terra. è un mistero, è davvero un mistero intricato e avvincente, l'origine della vita sulla terra. È le leggi cruente che la regolano. Chissà, forse noi viviamo grazie a tale mistero. È tale mistero che ci mantiene vivi. È tale mistero che ci porta ad indagare continuamente e quell'indagare continuamente ci tiene vivi. Forse Dio male è la materia e Dio bene è lo spirito e dal loro incontro-scontro scaturisce il compromesso che sarebbe la nostra vita materiale e spirituale. È un compromesso la nostra esistenza? Un compromesso fra materia e spirito? fra bene e male? La materia è male? Lo spirito è bene? Potrebbe essere. Potrebbe benissimo essere. Ma potrebbe anche essere che noi siamo stati creati da esseri alieni un po' più evoluti di noi che hanno commesso degli errori. Che hanno commesso degli errori e per gli errori che hanno commesso loro noi soffriamo. Oppure, oppure, quelli che ci hanno creati un giorno sono stati scacciati dalla Terra perché noi vivevamo con loro, eravamo felici. Vedi per esempio il mito di Atlantide, il continente scomparso, dove si dice che la vita era paradisiaca, l'uomo era felice, perché conviveva con i suoi creatori. Poi magari sono giunti sulla Terra altri alieni che hanno fatto la guerra a questi, ai nostri creatori, e li hanno scacciati. I nostri creatori hanno perso. Li hanno scacciati e noi da allora, da 12.000 anni più o meno, da quando Atlantide è scomparsa, noi da allora siamo sotto il gioco, sotto il dominio di questi alieni che ci tengono come animali in uno zoo, ci danno da mangiare, ci provvedono, ci tengono in vita, però, però, prendono le cose, prendono da noi le cose che a loro servono. Dunque, ci tengono in vita, ci danno da mangiare, ma non ci danno la felicità, la gioia, piene, autentica. Forse un giorno torneranno gli alieni, i nostri creatori, con Gesù, e muoveranno nuova guerra da questi alieni che ci tengono adesso sotto il dominio. E speriamo che venga Gesù e vingano i nostri creatori e che ritorni Atlantide, il paradiso perduto e che sia il paradiso per tutti. È questo che vogliamo tutti. Amen.